Il nome del Padre e del Criato e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Signore, mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana, regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei, mi cieli, liberaci da questo male, Padre. Padre nostro che sei, mi cieli, liberaci da questo male, come un cielo così in terra, come un cielo così in terra. Padre nostro che sei, mi cieli, liberaci da questo male, come un cielo così in terra, come un cielo così in terra. Noi tiguri, ficchiamo, ammè. Dal libro di cielo, volume terzo, capitoli 10 e 11, 19 e 21 novembre 1899. Continua il mio adorabile Gesù a venire e siccome la mia mente, prima che venisse Gesù, stava pensando a certe cose che negli anni passati Gesù mi aveva detto e che non tanto ricordo bene, lui quasi per ricordarmi mi ha detto, figlia mia, la superbia rode la grazia. Nei cuori dei superbi non vi è altro che un vuoto tutto pieno di fumo che produce la cecità. La superbia non fa altro che rendere se stesso un idolo, sicché l'anima superbiosa in sé non ha il suo Dio. Col peccato ha cercato di distruggerlo nel suo cuore ed alzando l'altare nel suo cuore vi si mette sopra e adora se stessa. O Dio che mostro abominevole questo vizio. A me sembra che l'anima sta attenta a non farla entrare in sé. È libera da tutti gli altri vizi, ma se per sua sventura si lascia dominare da essa, siccome madre è mostruosa e cattiva, repartorirà tutti i suoi figli discoli. Quali sono gli altri peccati? Ah, Signore, tenetela da me lontano. Questa mattina il mio direttissimo Gesù appena venuto mi ha detto, figlia mia, tutto il tuo piacere deve essere nel rimirarti in me. E se ciò farai sempre, ritrarrai in me tutte le mie qualità. La mia fisionomia, i miei stessi lineamenti ed io in contraccambio tutto il mio gusto e sommo contento sarà nel direttarmi di rimirarmi in te. Detto ciò è scomparso, ed io stavo ruminando nella mia mente le parole già dette. Tutto all'improvviso è ritornato, mettendomi la sua mano in capo, rivolgendomi la faccia verso di lui ha soggiunto, oggi voglio direttarmi un poco col rimirarmi in te. Un brivido mi è corso per tutta la vita, uno spavento da sentirmi morire, perché vedevo che mi guardava fissa fissa volendosi, direttare nei miei pensieri, sguardi, parole, ed in tutto il resto col rimirarsi in me. Oddio, sono oggetto io di far prendere di letto o di amareggiarvi? Andavo ripetendo nel mio interno. In questo momento è venuta la nostra cara regina mamma in mio aiuto, portando una veste bianchissima fra le mani, e tutta amabilità mi ha detto, figlia mia non temere, voglio io stessa supplire per te, vestendoti della mia innocenza, e così mio figlio rimirandosi in te, possa trovare il maggior diletto che si possa trovare in umana creatura. onde mi vestì con quella veste e mi offrì al mio caro bene Gesù dicendogli, accettatela per riguardo mio, o caro figlio, e dilettatevi in esse. Così mi è passato ogni timore, e Gesù si dilettava in me ed io in lui. Bene, duplice è l'argomento che affrontano questi capitoli, come duplice sarà il soggetto della meditazione di oggi, uno è la superbia, e l'altro è questa operazione del tutto particolare che Gesù insegna a fare a Luisa e a sua volta fa con Luisa. Ovviamente questo tipo di operazione è del tutto incompatibile con la problematica descritta nel capitolo precedente, con un'anima che sia ancora superba. Cominciamo così subito col dire che l'anima superba ha gli occhi puntati su se stessa, quindi guarda se. E guarda se ci sono vari modi di guardare se stessi. Se ricordiamo, perché chiediamo sempre la grazia allo Spirito Santo, ma anche sforziamoci di fare come faceva Luisa la ruminazio, quindi quando ascoltiamo qualche cosa di importante o che ci ha colpito, o leggiamo qualcosa di importante, non permettiamo che scorra rapido nella nostra anima senza lasciare traccia. Corre la ruminazio, il ruminare, avete visto? C'è in mente i miei amatissimi cavalli quando mangiano il fieno, se mangiano un pochino di fieno stanno tre ore a fare, a masticarlo, prima che lo ingoiono, fanno pure i nervosi, fanno gnam, 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 triturano, 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 fanno così, no? Con quel rumore caratteristico, questa della ruminazio è un'espressione tecnica affiorata molto anticamente nella Chiesa, in ambienti monastici, no? Che indica proprio l'operazione dello spezzettare e del rendere perfettamente assimilabile la parola di Dio ascoltata, in modo tale che non scorra in vano. Se no, facciamo come quello che scrive l'Apostolo San Giacomo, no? Che ascolta la parola e non la mette in pratica, ecco, è simile alle paglie gettate dal vento, quindi, no? Quindi, ho quel flatus vocis, come si dice anche in latino, quella parola che ti risuona dentro, poi ti diletta, bello bello, poi se ne va e la vita rimane sempre la stessa. Quindi, la meditazione è così importante nella vita interiore proprio perché prevede nel tempo suo questa ruminazio che poi deve continuare nell'arco della giornata, quindi i maestri di spirito hanno sempre insegnato di trovare un modo per richiamare durante la giornata i punti principali della meditazione, quindi questo sarebbe quanto mai opportuno imparare a farlo. e vabbè, comunque, chiusa questa parentesi, però non troppo accessorie. Dicevo che ci sono vari modi di guardare a se stessa, c'è un modo sano e santo che è quello appunto, dicevo, se lo ricordiamo nella precedente meditazione, Gesù esortò Luisa a dire guarda, non guardare gli altri ma guardate che significa questo? Uno può guardare gli altri per invidiarli, per confrontarsi, per giudicarli, per criticarli, per mormorare, per lamentarsi, per puntare il dito, eccetera. Ecco, è chiaro che in questo senso bisogna smettere di guardare gli altri e guardare a se stessi, nel senso pensa ai peccati tuoi, pensa a curare la tua crescita interiore, la tua santificazione e non ti sta a preoccupare di quello che fanno gli altri. Non ricordiamo anche il rimpopero di Gesù a San Pietro nell'ultimo capitolo dell'Angelo di San Giovanni, no? Quando a un certo punto Gesù dice tu seguimi, dice, e San Pietro dice lui, si riferì a San Giovanni dice lui no, se voglio che rimanga finché io venga, c'è una frase misteriosa, che importa a te, ecco, ma in quel che importa a te c'è un grande insegnamento, quindi fate gli affari tuoi, perché tu avrai la tua missione da compiere e San Giovanni avrà la sua missione da compiere, tu pensa a far bene la tua, chi fa bene quella di San Giovanni ci pensa a San Giovanni, quindi c'è questo modo non solo sano, ma doveroso di guardare se stessi, e poi Gesù aggiunge guarda te e guarda me, che è il soggetto che affronta nel secondo capitolo di oggi, rimirarsi in Gesù, o anche il guardare Gesù come modello, d'accordo, o vivere sotto il suo sguardo, non sotto lo sguardo delle creature, degli uomini, ecco, ma poi c'è un modo malato però di guardare se stessi, molto malato, e guardate che la superbia è un, noi non dobbiamo pensare insomma a le manifestazioni veramente mostruose e macroscopiche della superbia, come quella di certi personaggi storici, non lo so, di certi dittatori o robe del genere, insomma, palese insomma, che sono la superbia fatta carne, no? Poverini, ma dobbiamo guardare la superbia, come dire, che si annida nelle anime più comune e che molte volte trae alimento anche questa esperienza comune delle persone, diciamo, che fanno un po' di cura pastorale delle anime, la superbia trae molto spesso l'alimento da problematiche più profonde, denominate di tipo psicologico, ecco, che però vanno ad alimentare insomma questo questo vizio in maniera molto molto raffinata. E come sempre, sempre cosa buona fare un pochino di esempi esplicativi, perché come dice Gesù tante volte alla Luisa, la conoscenza, la comprensione, il primo passo verso la perfezione, perché se non c'è chiarezza, va partendo dalle parole che Gesù dice. nei cuori dei superbi non vi è altro che un vuoto, attenzione, tutto pieno di fumo che produce la cecità. Vuoto di cosa? Il cuore di un superbo è vuoto di Dio, in senso negativo però, non è come dire un vuoto totale di sé pronto all'accoglienza, ma è un vuoto di Dio, perché Dio non sta seduto in quel cuore come un trono dove regna, ma in quel cuore regna altro, non Dio. Quindi il superbo è uno che cerca la vita in qualche altra cosa che Dio non sia. D'accordo? Questo è un fatto molto molto profondo. Dove la cerca la vita? La vita si può cercare grossolanamente o raffinatamente in tante cose, persone, situazioni. D'accordo? Ci sono i classici idoli del mondo, c'è chi cerca la vita nel successo, c'è chi cerca la vita nei soldi, c'è chi cerca la vita nel sesso, c'è anche chi cerca la vita in cose meno, come dire, grossolane. D'accordo? C'è chi vive in funzione della considerazione altrui, c'è chi vive e le mosinando, ci sono episodi biblici che anche del Nuovo Testamento gli fanno simbolicamente riferimento, chi vive le mosinando l'affetto altrui, chi vive appunto cercando in tutti i modi possibili di attirare le attenzioni altrui, finalizzate appunto a riempirsi di quell'affetto delle creature che è tra l'altro fumo ingenerando una situazione di perenne perpetua frustrazione e insoddisfazione perché le creature non ti danno mai quello che pensi neanche se tu ti prostri ai loro piedi anzi peggio e perché comunque quella briciola di cose che ti possono dare costa sempre molto salata viene fatta poi scontare con molte altre grossi ed è comunque assolutamente inadeguata insufficiente a ciò per cui l'anima è stata creata come ben scriveva Sant'Agostino se tu ci hai fatto per te noi non siamo fatti per cose piccole per miserabilità noi siamo fatti per cose grandi allora un cuore è così quindi basta un cuore è così non è come deve essere superbo come dire che disprezza le persone che se ne mette sotto i piedi che urla che grida o che ha manifestazioni insomma ripeto grossolane basta questo basta un cuore che ha eretto un idolo a se stesso un cuore così ha eretto un idolo a se stesso poi si vede subito si vede immediatamente allora lì dentro non c'è altro che fumo e purtroppo io parlo insomma anche l'eventuale vita di fede è fumo in che senso è fumo è una realtà evanescente che non va a intaccare e a toccare e a scardinare le problematiche profonde della persona d'accordo quindi c'è non è che non c'è ma non è incisiva si risolve e questo poi si vede adesso non voglio fare insomma una lezione insomma di psicologia spirituale per la guida delle anime ma si vede benissimo poi da alcune manifestazioni le anime molto frequenti che hanno questo tipo di problematica hanno una persona che si abbia un pochino di esperienza se ne accorge basta toccarle in due o tre punti sensibili e vedere le reazioni che hanno e si capisce subito no? e attenzione questo fumo produce la cecità ancora cecità di cosa cecità di cosa che l'anima uno non vede l'amore di Dio uno due non vede se stessa in senso buono quindi non vede i propri difetti non vede le radici profondi dei propri difetti non vede le motivazioni profonde delle sue azioni d'accordo? e quindi campa in quella che tante volte ho chiamato l'illusione spirituale cioè è completamente proiettata alla superficie delle cose non va a fondo e anche se non se ne accorge anche se non lo fa in maniera come dire ricercata voluta e ripeto come le forme grossolane di superbi in realtà è rigenito da se stessa perché in tutte le cose che fa in tutte le situazioni in cui si propone il soggetto il centro è sempre un io cioè perché è lei che deve essere considerata è lei che deve essere amata è lei che deve essere stimata è lei che deve essere consultata è lei che deve essere amata è lei che deve essere riverita è lei che deve essere trattata bene eccetera ci sono uno per comprendere bene questo mostro della superbia deve recitare spesso le ritanie dell'umiltà del cardinal merri del val che sarebbe assai opportuno recitarle di frequente e soprattutto confrontarci sì perché da un lato sono una preghiera al signore perché ci liberi da questo mostro e dall'altro e sono anche un aiuto per conoscerlo e per comprenderlo guardate le leggo qualcuna così vedendo tutte queste cose capiamo che cos'è la superbia nel grado raffinato e non nel grado grossolano sentite dal desiderio di essere stimato liberatemi Gesù chi cerca la stima degli altri dal desiderio di essere amato chi cerca l'amore delle creature liberatemi Gesù dal desiderio di essere decantato quindi dal desiderio di essere onorato dal desiderio di essere rodato chi ricerca le lodi le approvazioni chi quando fa qualcosa ti è piaciuto non ti è piaciuto eccetera dal desiderio di essere preferito agli altri quindi preferito di essere il primo superiore nella considerazione altrui dal desiderio di essere consultato ah non mi ha fatto sapere niente non mi ha detto niente dal desiderio di essere approvato quindi la considerazione delle creature poi questi poi dal timore di essere umiliato uno dei tasti di cui vi parlavo no tu basta che fai una piccola umiliazione a un'anima di questo genere e vedi come reagisci dal timore di essere disprezzato quando San Giovanni della Croce diceva patire ed essere disprezzato per amore tuo questo io desiderio quando il Signore gli chiese Giovanni con tutto quanto mi hai servito e quanto mi hai amato dimmi un po' che regali vuoi che ti faccia e lui risponde patire ed essere disprezzato per amore tuo non lo dimenticherò mai questa cosa qui la ripeto spessissimo no? il superbo dal timore di essere disprezzato liberatemi Gesù dal timore di soffrire di pulse liberatemi Gesù dal timore di essere calunniato la calunnia è una grande umiliazione dal timore di essere dimenticato a me non mi pensa nessuno non mi ricorda nessuno non mi vuole nessuno poi dal timore di essere preso in ridicolo specialmente quando si fanno le cose di nostro Signore il rispetto umano in realtà è una forma di superbia perché per non perdere la stima e la considerazione di me stesso io mi astengo da fare delle cose anche necessarie eccetera e poi dal timore di essere ingiuriato che qualcuno mi dà qualche insulto e dal timore di essere sospettato che qualcuno pensi male di me anche senza fondamento vedete sono tutte manifestazioni della superbia poi si passa alle grazie richieste al Signore vogliamo diventare umili bene allora che gli altri siano amati più di me Gesù datemi la grazia di desiderarlo che gli altri siano stimati più di me Gesù datemi la grazia di desiderarlo che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo vadano diventino tutto quello che vogliono io sono prete diventino vescovi cardinali papi io rimanga l'ultimo assoluto dimenticato da tutti bene ecco Gesù datemi la grazia di desiderarlo che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire la frase di San Giovanni Battista deve crescere Gesù non dobbiamo crescere noi egli deve crescere e noi diminuire che gli altri possano essere impiegati e li ho messo in disparte oh non servo a niente ecco sono inutile ma magari fosse ecco voi siete solo servi inutili disse Gesù no? avete fatto quello che vi è stato comandato ecco che gli altri possano essere lodati e Dio non curato Gesù datemi la grazia di desiderarlo che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa ah l'ha dato a quello quello in carico ah gli ha dato a quello di fare quella cosa ah e a me niente benissimo e addirittura perché anche nel desiderio della santità può annidarsi la superbia però il desiderio della santità è una cosa buona allora l'ultima ritania fa sorridere dice che gli altri possano essere più santi di me però purché io divenga santo in quanto posso Gesù datemi la grazia di desiderarlo ecco ruminiamo queste cose qui ecco un bel un bel esame di di coscienza perché quando ci sono queste disposizioni anche se ci presentiamo come agnellini tranquilli buoni belli e bravi in realtà abbiamo un idolo nel nostro cuore dove adoriamo noi stessi non il Signore quindi altro che il regno della Divina Volontà quando ci sono queste queste cose nel nostro cuore adesso passiamo all'altra parte ecco quindi tutto il tuo piacere deve essere nel rimirarti in me allora l'anima umile cosa fa? non gliene importa niente di se stessa non gli importa niente di quello che gli altri pensano di lei non gli importa nulla di tutto questo qui all'anima umile gli importa uno quello che Gesù pensa di lei e di questo si preoccupa assai ecco all'anima devolta alla Madonna che è la stessa cosa sempre detto gli interessa quello che pensa la Madonna di lei di quello che fa di quello che dice di quello che pensa l'anima umile vive quello che viveva San Francesco d'Assisi è l'anima che rimira Gesù e si rimira in lui San Francesco diceva anche questo l'ho detto infinite volte ma ruminiamo e ripetiamo se tutti dicono che tu sei bravo e Dio non sottoscrive tu bravo non ci sei e se tutti dicono che tu sei cattivo e Dio non sottoscrive tu cattivo non ci diventi perché tanto ciascuno vale gli occhi di Dio e tanto egli è nulla di più e nulla di meno e San Francesco si ritenera il più peccatore di tutti non perché fosse in atto o anche a volte come si sente dire in qualche ambiente un po' malato anche della nostra cara chiesa che sembra che uno debba fare un autotreno di peccati perché più peccati faccio e più glorifico la Dina misericordia queste pazzie che ogni tanto circolano San Francesco diceva che era il più peccatore di tutti quindi i peccati poi bisogna farli se no che peccatore sei pensate un po' il demonio con quelle canterisate che si fa quando lava i cervelli in questo modo San Francesco diceva che era il più peccatore di tutti ma poi spiegava che lo era in potenza non in atto cioè se Dio non mi avessi dato tutte le grazie che mi ha dato io sarei peggio di tutti ovviamente non diceva ma questo è vero che lui a quelle grazie ci aveva corrisposto e se gli altri ce ne saranno avuto le grazie se tu come ce l'ho avuto io sarebbero diventati più santi di me e di questo possiamo sempre esserne convinti anzi dobbiamo esserne sempre convinti quindi rimirarsi in Gesù vuol dire anche un'altra cosa vuol dire anche un'altra cosa le persone che non si accettano che non c'è generalmente le persone che stanno sempre a cercare il consenso degli altri sono persone che non si accettano non si vogliono bene ma la nostra accettazione di noi stessi il nostro volerci bene è so possibile solo se è fondato in modo teologale cioè io voglio bene a me stesso solo se mi rimiro in Gesù cioè se vedo la bellezza della mia anima creata da Gesù e quanto lui la ama e in lui contempo tutte quante le mie miserie che io purtroppo volontariamente o involontariamente ci ho versato sopra d'accordo che Gesù come dire sa non guardare cioè nel senso che lui guarda a quello che ha creato lui non a quello che abbiamo distrutto noi e con il suo aiuto e con la sua grazia tutte quante le scorie tutte quante le mostrosità create in me da me piano piano le toglieremo quindi è chiaro che c'è questa serenità di fondo perché si parte da questa profonda accettazione e amore di noi stessi che dipende dal fatto che Dio mi ha creato cioè a me Vito e Dio ama me in quanto me a prescindere d'accordo un amore che può trasformarsi e questo è il regno della divina volontà in un amore di direzione talmente profonda da portare ad una vita di intimità talmente grande con Gesù o con Maria tale da non essere mai stata conosciuta come l'ha vissuta Luisa come si vede benissimo dai suoi scritti ecco quindi c'è questa operazione di eliminare se stessi in Gesù in questo senso guardare Lui preoccuparsi cosa pensa Lui di me e guardarmi in Lui quindi trovare l'asse della mia cosiddetta la chiamano così autostima e sano amore di noi stessi in quello che Lui pensa di me e poi averlo sempre come modello di tutti quanti i pensieri e le azioni quando ci abbiamo un dubbio di coscienza se noi ci chiedessimo cosa farebbero Gesù e Maria in questa situazione li risolveremo molti e molto facilmente ecco ma poi Gesù vuole anche rimirarsi in lei e qui c'è l'eco delle bellissime parole per chi le conosce le ha lette di Santa Caterina da Siena nel dialogo della Dina Providenza quando dice tu ti sei innamorato della tua creatura vedendoti in lei quindi vedendo in lei la tua stessa bellezza perché Gesù questo fa mi hai fatto come un prodigio c'è il Salmo 139 che è molto bello da andare a usare anche Signore tu mi scudi e mi conosci tu sai quando seguo e quando mi alzo prendi da lontano i miei pensieri mi scudi quando cammino e quando riposo ti sono note tutte le mie vie non ancora sulla mia lingua la parola tu Signore già la conosci tutta eccetera però ti rodo perché mi hai fatto come un prodigio questo prodigio Gesù lo vede e certamente è un prodigio deturpato lo vediamo negli scritti della Dina Volontà è veramente orridamente a volte deformato dalla nostra volontà umana che anche in chi come Luisa stava facendo e ha fatto per tutta la vita un percorso continuo di chiamiamolo ascesi di santificazione di sé non si toglie mai del tutto e qui interviene la Madonna dice guarda facciamo così ci penso io quindi queste brutte cose che rimangono nella tua anima le copro io con la mia perfezione con la mia veste bianchissima affinché ecco vestendole della mia innocenza ecco che è l'unica cosa che ti manca Gesù posso trovare il maggior diletto che si possa trovare in umana creatura perché quello che ci manca a noi e quello a cui dobbiamo tendere con l'aiuto del Signore è proprio questa innocenza che purtroppo l'anima perde subito o dopo concepita già col peccato originale e poi aggrava chi più chi meno ad ogni peccato attuale che commette sappiamo che l'aggravamento è tanto maggiore quanto maggiormente coinvolta nel peccato la volontà cosa che con perfezione conosce soltanto il Signore noi lo conosciamo abbiamo una conoscenza molto imperfetta di questa cosa per i nostri limiti e così Gesù si dilettava in me ed io in lui questo è impiegare bene il proprio tempo quindi non guardare malatamente noi stessi ma guardare santamente noi stessi e guardare santamente Gesù così ecco nella meditazione di oggi c'era un po' la spiegazione di quel famoso passo di Gesù esortazione di Gesù a Luisa guarda me e guarda te e lascia perdere tutto il resto ecco espressione che è da intendere rettamente speriamo che questa meditazione ci abbia aiutato a meglio vocalizzarla grazie o piena di grazia ecco se noi meditassimo bene queste parole dell'angelo piena di grazia non certamente quel brutto vuoto tutto pieno di fumo su cui abbiamo meditato le nostre anime sono state create pensate concepite per essere piene di grazia come la tua piena di Dio vuote di noi stessi e delle altre creature piena di colui che deve signore nel nostro trono e deve essere l'inizio il principio la fine la causa il motivo di ogni nostro pensiero e di ogni nostra azione noi con le parole della chiesa sotto un presidio un confugimus sancta del genere cerchiamo rifugio sotto il tuo manto ai tuoi piedi nella tua intercessione perché possiamo essere liberati dalla più grande schiavitù che è la schiavitù dell'umana volontà ed è quindi la schiavitù dell'idolatria a noi stessi a cui poco si pensa che poco si confessa che invece molto dovrebbe essere oggetto di esame e di attenzione profonda e sincera e laddove dovessimo riscontrare le piaghe purulente portarle anzitutto a Gesù perché le curi e secondo le circostanze e anche a seconda di quello che il Signore ci mette dinanzi chiedere prudentemente aiuto per essere sanati e guariti da queste piaghe profonde dell'anima la tua materna buontà di intercessione sia sollecita come sempre lo è nell'intervenire anche nell'ottenerci le grazie e i lumi necessari per una sincera e profonda conoscenza di noi stessi che sia finalizzata a un cambio di passo nella strada della santità e nel nostro cammino di progressivo avvicinamento al regno della divina volontà ti benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per perdonarti ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Fiat Ave Maria Grazie.